Salve amici e benvenuti! È il momento di riparlare un pochino di Palworld. Ci sono un po' di news, aggiornamenti su Patch, su Steam, su Xbox e soprattutto c'è la roadmap di quale sarà il futuro di Palworld. Cosa faranno nei prossimi mesi di accesso anticipato verso la release del gioco. Bene, cominciamo subito e iniziamo a dire che il gioco è in incredibile salute alla faccia di tutti quelli che volevano che fosse una moda passeggera. Vedrete che adesso si ferma e solo così il buzz mediatico. Il buzz mediatico du coglioni perché siamo arrivati a 19 milioni di giocatori complessivi. 12 milioni su Steam e 7 milioni su Xbox. Parliamo sia di console che probabilmente intendono anche il Game Pass PC. Ma soprattutto stiamo parlando di 8 milioni di copie vendute in 6 giorni su Steam, nonostante il gioco sia presente sul Game Pass appunto Xbox e anche PC. Quindi il gioco è giocatissimo e piaciutissimo ancora adesso. Se vado a prendermi Steam è sempre, costantemente primo. Sia nei picchi giornalieri che nei concurrent. E addirittura a un certo punto è arrivato a più di 2 milioni di picco giornaliero. Quindi il suo successo è assolutamente inarrestabile e non si è fermato minimamente. Ormai è chiaro che si sta instaurando un enorme, ma proprio enorme community che cresce giorno dopo giorno. Quindi mi sa proprio che questo Palworld è un gioco che rimarrà nel tempo e se lo sviluppano bene, se allocheranno bene i soldi che stanno guadagnando, stiamo parlando di più 300 milioni di dollari in questo momento, sarà qui per restare e non sarà semplicemente una moda passeggera come molti hanno deriso. Perché come ho detto in un altro video è facile fare i sommelier del videogioco. Ma andiamo a vedere adesso che cosa c'è di nuovo. Bene, sono arrivate delle patch da qualche giorno. In particolare è arrivata la 1.4 su Steam e la 1.1.3 su Xbox. Purtroppo ancora a difficoltà la versione Xbox a rimanere dietro a quella di Steam e quindi parlo anche della versione Game Pass su PC. Ma probabilmente questa è una questione di certificazioni che hanno bisogno di passare prima di essere uploadate sul sistema Xbox. Diciamo che Steam è un attimino più veloce. Comunque sia, arrivano un sacco di bug fix fondamentalmente, problematiche varie eventuali. Non stiamo qui certamente a leggere una per una. Comunque, cose che migliorano il gioco. Vi ripeto, questo è un gioco in accesso anticipato, consideratelo come un'alpha slash beta. Quindi ancora mancano un sacco di cose, ci sono un sacco di problemi. Ci sono anche zone totalmente vuote. Io ho fatto una recensione di una quarantina di ore giocate dopo il primo weekend. Insomma, c'è la parte tutta del ghiaccio che è praticamente vuota. Ma in supporto a questo arriva la roadmap, quindi anche nuovi contenuti. Quindi vediamo un po' cosa sarà il futuro di Palworld in questa roadmap dell'accesso anticipato. Principalmente ci sarà un focus su aggiustare problematiche note, quindi con una priorità su bug fixing. Qui dicono che a volte i mondi hanno dei rollback dell'esperienza, ci sono loading screen persistenti, ci sono problemi soprattutto col patting dei PAL e anche dei umani. Quindi quando loro camminano si incastrano qua e là, tant'è che gli assalti sono praticamente inutili. Questo ve l'avevo detto pure nella recensione. Quindi ci sarà tutta una dinamica di aggiustamento e miglioramento del gioco costante. Ma le cose più interessanti probabilmente sono le aggiunte future, quindi più contenuto. E quello che si prospetta per il futuro sarà PvP, Raid Boss, quindi Endgame Content, che in questo momento è praticamente inesistente. PAL Arena, quindi un PvP per i PAL. Dopodiché anche lo Steam Xbox Crossplay, quindi la possibilità di giocare anche con persone che stanno giocando su Xbox, anche se si è su Steam. La possibilità di fare server transferta e migrazione dei personaggi. Un miglioramento del building system, che insomma ne ha bisogno. Tra le cose fatte veramente un po' alla Carlona, c'è proprio la costruzione degli edifici. È veramente molto molto minimal. Io ho giocato ultimamente una trentina di ore a Unshrouded, ho fatto qualche video. Ecco, se giocate a Unshrouded e giocate a Palward, vedrete un abisso allucinante il building system per costruire case e quant'altro. C'è proprio una differenza atomica. Quindi dato che comunque Palward è pure anche un gioco co-op dove bisogna costruire la base e tutto quanto, anzi ci sono tutti questi PAL che lavorano, li mettete a lavorare, farsi una bella base esteticamente sarebbe una cosa che molti apprezzerebbero. Inoltre arriveranno in futuro nuove isole, nuovi PAL, nuovi boss e nuove tecnologie. Quindi proprio un aumento del content in generale a tutto tondo. Tutte queste cose sono molto interessanti e dovute, anche appunto perché è ancora in accesso anticipato al gioco, però la cosa che mi piacerebbe di più vedere, e anche più velocemente possibile, è proprio il PVP dei PAL in arena. Perché secondo me, anche lo stato attuale del gioco, la cosa più divertente da vedere non è tanto noi che combattiamo, anche perché tutto il combat system è tutto sommato abbastanza basico ancora, ma è divertente proprio vedere i PAL che si menano tra di loro, sparano le abilità e vedere cosa succede. Secondo me questa è una cosa molto divertente e la PAL arena sarebbe una cosa del genere. Quindi due amici, magari, si mettono lì nell'arena e fanno combattere i PAL. Quindi magari loro non fanno niente o danno in qualche comando specifico e poi vedono come va a finire. Magari potrebbero anche implementare qualche sorta di equipaggiamento extra per i PAL per aumentare la loro potenza, dargli qualche abilità in più o cosa del genere. Sarebbe interessante. Ma chiaramente sarebbe anche interessante avere dei raid boss e game content, meccaniche di boss fight più elaborate. Insomma, rendono effettivamente un gioco completo, perché appunto adesso ancora è un pochino scheletrico. Ma come detto, ragazzi, questo è un gioco che secondo me rimarrà nel tempo se investono bene i soldi che stanno guadagnando. La community sta aumentando sempre di più, molti amano letteralmente questo PAL world. Potrebbe essere veramente un bel giochino molto interessante. I numeri lo sostengono e quindi, insomma, sembra un gioco da un radioso futuro. Dipende tutto dagli sviluppatori. Bene ragazzi, detto ciò io chiudo quel video, spero che sia stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti e ne discutiamo. Comunque prossimamente arriverà anche un mio video paragone un po' ardito, però probabilmente un po' interessante anche tra Baldur's Gate 3 e PAL world, perché diciamo che sono i giochi più rilevanti, anche se in maniera diversa, dell'ultimo anno solare. Quindi state lì sintonizzati. Noi comunque ragazzi ci vecchiamo sempre prossimamente per altri video sul gaming. Grazie per l'attenzione, grazie per il supporto sempre, statemi sempre bene. Alla prossima, ciao ciao!